Montroni, Piepoli, Zanna, Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'articolo 2. Chiede i pareri alla relatrice e al Governo. Prego, onorevole Piccione. Grazie, Presidente. Sono stati presentati due emendamenti analoghi. Hanno parere favorevole. Grazie, Governo. Sono identici, sì. Grazie, Presidente. Il parere è favorevole in conformità al parere espresso della relatrice. Grazie, onorevole Sottosegretario. Chiesto di parlare sull'articolo 2, l'onorevole Toninelli, o sugli emendamenti? Sugli emendamenti. Ok. Prego, onorevole Toninelli. Per spiegarne il significato, questo emendamento fa sì che la legge che sblocca 45,5 milioni di euro che sono indebitamenti, illegalmente, illegittimamente prese dalle tasche dei soldi pubblici pagati dagli italiani, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione, non come al solito, cioè 15 giorni. Avete talmente fretta e bisogno di soldi che accelerate l'apertura del rubinetto e lo rompete col martello, però. Grazie, Presidente. Grazie. Metto in votazione gli emendamenti identici 2,050 Ferrari, 2,051 Centemero. Parere favorevole, Commissione e Governo. È aperta la votazione. Ah no, scusate però. Scusate, scusate, stiamo votando l'articolo 2, perché siccome poi l'onorevole Toninelli mi ha portato fuori strada. Scusate, revoco la votazione perché ho fatto un po' di confusione io. Adesso mettiamo in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. Scusate, è aperta la votazione. Scusate, è aperta la votazione.